Finalmente sono arrivate tutte le maglie di calcio 2025 frate, compreso quelle della squadra tua Roma, Lazio, Milan, Juve, Napoli, Inter e cazzo che te se frega frate www.24shop.com Mo te faccio vedere sti amici oggi che mi hanno mannato Frate scusa se è poco, la maglia 2025 dell'Arsenal Ma non lo vedi che rifiniture, guarda che roba frate Prima maglia 2025 del Barcellona Guarda che roba frate, ma non vedi che spettacolo Vada frate, Premier League, la terza del Manchester City Puma Guarda che cazzo di maglia frate, col colletto alzabile Fermate Frate per finire guarda che robetta Guarda che bella frate, guarda che spettacolo Naturalmente tutte le etichette dentro Adidas frate Guarda che roba, guarda qua Guarda qua frate Allora frate, se anche tu puoi comprare sta roba strepitosa A prezzi bassissimi Questo è il sito fratelli www.calcio24shop.com E ricordati, in fase di acquisto, di usare il codice sconto del 15% Che c'ho solo io frate, Devil E le pagherai ancora meno Qualsiasi dubbio o perplessità, mi scrivi in direct O qui, o su Instagram, o su Youtube Io ci metto la fascia per voi Merce garantita E il Devil te saluta